Con l'arrivo della primavera riprendono gli appuntamenti per i appassionati di auto storiche. Ad organizzare i vari eventi, divenuti ormai un appuntamento fisso, è il club storico Araba Fenix. Quest'anno si è tenuta la tredicesima edizione che è stata intitolata al compianto socio Luigi Mazzarella. Alla sua famiglia è stata consegnata una targa in ricordo. Il raduno ha preso il via presso il caseificio La Perla di Ponte Barizzo per poi recarsi nel Cilento ad Orria. La tappa nel paese dei Murales, presso la frazione di Piano Vetrale, è obbligatoria anche per il valore storico ed artistico del centro cilentano. La tredicesima edizione della manifestazione Cilento e dintorni, quest'anno dedicata al nostro socio, compianto socio Luigi Mazzarella, che ci ha lasciato lo scorso anno. Qua c'è la sua famiglia e la sua macchina, che avete visto prima, la 127 Berlina del 73. Daremo un attestato di stima e di ricordo alla signora Fuscotina e ai figli del compianto Luigi. Scusate l'emozione, ma l'anno scorso è venuto meno nello stesso giorno in cui dovevamo fare il raduno. 60 macchine iscritte e qualcuna ospite della manifestazione. Abbiamo molte macchine che provengono dalla provincia di Salerno, alcune dalla provincia di Napoli e dalla provincia di Avellino. Come vedete ci sono Ferrari, abbiamo delle Ferrari, abbiamo delle Porsche, abbiamo delle Spyder, delle Giuliette Spyder. Macchine anche di un bel valore, sia storico che collezionistico. I prossimi appuntamenti del club sono Miss Cabriolet, che la faremo nel mese estivo. È riservata a tutti i veicoli cabrio e Spyder. Accogliamo tutti quelli che vogliono divertirsi con noi e fare una bella passeggiata con gli Spyder e le cabrio nella zona del mare. Una macchina d'epoca può costare anche 500 euro, ma anche 500 mila euro o anche un milione di euro. Il valore è quello che lega la persona al veicolo, cioè l'affetto. Può essere la macchina che era quella del nonno, dello zio, che benché non abbia un valore commerciale altissimo, ma lo è sotto il valore morale. Per cui una 500 che magari può valere 2 mila euro, per una persona ne può valere anche 2 milioni di euro. Perché magari è stata la macchina con cui è andato con il papà quando era piccolo, con lo zio che l'accompagnava a scuola. C'è un valore affettivo sui veicoli storici che è superiore al valore commerciale, sicuramente. La gestione. La gestione. Sono macchine che sicuramente non hanno le stesse caratteristiche delle macchine di oggi, per cui tendono chiaramente ad avere i classici acciacchi di vecchiaia. La possibilità di bloccarsi con i freni, la pompetta C che magari non funziona e tante altre piccolezze, per cui bisogna starle un po' dietro, un po' come le nostre vecchiette che vanno accudite.